In questi giorni all'Istituto Fantoni di Clusone è allestita la mostra Simboli della Pace, un'occasione di riflessione per i ragazzi ma anche per i genitori e per tutti coloro che in orario scolastico volessero visitarla. Anzitutto perché questa mostra? Ci siamo resi conto come in questo periodo, in questo periodo che per i ragazzi è fondamentale, loro non hanno alle spalle altra storia a cui fare riferimento, si stanno rendendo conto loro stessi di come il mondo si è andato, tra virgolette, un po' a rotoli. Nobilitando questa frase abbiamo fatto riferimento a Papa Francesco che dice come nel mondo si stia vivendo una terza guerra mondiale a pezzi. Abbiamo voluto allora con questi ragazzi dire nuovamente la pace cercando in qualche modo di sovrastare la voce della guerra, dell'odio, della violenza, del razzismo e così via. L'impegno nostro è quello di dire la pace attraverso una raccolta di simboli della pace per cui ne abbiamo identificati tra i tanti una dozzina e li abbiamo presentati qui all'interno della mostra con dei pannelli e dei testi che insegnanti e studenti del Fantoni hanno preparato. Questa mostra viene visitata da tutte le 30 erotte classi del Fantoni e ciascuno dei ragazzi diventa presentatore di uno dei simboli per i compagni in modo tale che diventi, tra virgolette, qualcosa di loro, qualcosa che sentono propria e che potranno eventualmente poi esportare anche fuori come idea e così. A questi simboli abbiamo aggiunto anche dei poster, delle grafiche preparate da degli studenti di quest'anno e degli anni scorsi. Di questi poster abbiamo fatto delle coppie, delle riproduzioni in modo tale che gli studenti possano prendere questi poster e portarli a casa per personalizzare la propria stanza, per personalizzare magari l'oratorio piuttosto che la loro aula e così via. Questa proposta la volete estendere anche al territorio, quindi oltre la scuola con un'altra iniziativa? Non ci vogliamo accontentare di presentare questa mostra ai nostri studenti, vogliamo che le loro famiglie, gli ambienti che loro frequentano possano condividere le stesse finalità, gli stessi obiettivi. Dunque ci siamo riproposti di stampare un piccolo poster, una tre, per far sì che il nostro messaggio possa, ripeto, arrivare fuori. Perciò tutti i ragazzi che lo desidereranno potranno prendere di questi posterini, portarli nelle loro classi, nelle loro scuole, portarli sul territorio, negli oratori, nella sede della banda, ovunque questo sia possibile, per far sì che dal Fantoni parta questo tipo di messaggio. Tra l'altro abbiamo il 10 di dicembre, la giornata dei diritti umani, abbiamo il prossimo Natale che ci piace pensare anche in ottica di pace e così via. Dunque questo piccolo poster che abbiamo intitolato provocatoriamente Peace Mission Possible, non impossible, ma una pace possibile, portato sul territorio, proporrà delle modalità attraverso le quali costruire la pace. Perciò ci diciamo pace con la responsabilità, con buona coscienza, nella ricerca della verità, nella lotta per la giustizia, consapevoli che dobbiamo uscire e consapevoli che ciascuno di noi è necessario per costruire la pace.